L'imposta di soggiorno non essendo una tassa e non essendo direttamente collegata alla città, nel senso che non la pagano i cittadini residenti ma soltanto i turisti, credo sia una di quelle imposte che un sindaco deve avere il diritto di poter introdurre, di poter aumentare e di poter ridurre. Perché se io vado a Firenze in un qualsiasi albergo pago l'imposta di soggiorno, se uno di Firenze, come il Presidente del Consiglio, magari viene a Bari, non paga l'imposta di soggiorno perché l'anno scorso la finanziaria ha bloccato la possibilità forse giustamente di poter aumentare o introdurre tasse, ingiustamente di poter introdurre un'imposta di soggiorno che serve ad una città, a rendere la città stessa più attrattiva dal punto di vista culturale, dal punto di vista turistico, dal punto di vista paesaggistico e serve anche come ristoro alla città perché giustamente i turisti utilizzando la città in alcuni casi, in alcune zone della città, se vi passate un termine tra virgolette, stressano la città e quindi una forma di ristoro nei confronti della città ospitante.